non vi spaventate che sono così con i vuoi vi ero a ascoltare la musica a lune e 5 di notte sono ancora sveglio e ero a vedere un programma di macchine alla tv in sala non mi ha sonno, ora fra poco quando finisco questo video spengo il tablet e la metto a caricare perchè quasi scarico è al 15% e mi ha segnato una mia zia che gli voglio tantissimo bene e ti saluto e diverse settimane che non ti vedo ora spengo il tablet fra poco dopo aver tolto le cuffie e con questo video voglio salutare lei, mia zia che lo voglio tantissimo bene, i miei parenti di Sanzana e Milano, Svizzera e altre zone che ho parenti paesi, città e altre parti del mondo e questo video è soltanto il piatto